Eurobike 2014, siamo con Paola Santini. Ciao Paola, cosa propone quest'anno Santini per il 2015 per la linea donna? Allora quest'anno abbiamo un sacco di novità, essenzialmente quello che abbiamo deciso di fare è una collaborazione con la pluricampionessa olimpionica e mondiale Anna Mears, con cui lavoriamo già da diversi anni. Con Anna abbiamo sviluppato una linea da donna molto ampia, dedicata a diverse tipologie di donna e quindi diverse tipologie di donna che pedala. Ci puoi illustrare qualche capo che è stato creato apposta per le donne? Allora ne abbiamo tantissimi, ovviamente dipende dalla tipologia di atleta. Uno dei miei capi preferiti è la maglia e il calzoncino della linea 33, che è una linea molto aerodinamica, è stata chiamata 33 perché appunto Anna Mears detiene ancora il record dei 500 metri nello sprint su pista e il primo record che ha fatto è stato in 33 secondi, quindi questa linea aerodinamica appunto è dedicata un po' a questo. È una linea che ha delle caratteristiche particolari, è dedicata appunto a tutte quelle cicliste che vogliono puntare sull'aerodinamica, che passano molte ore in sella e quindi hanno bisogno di un capo comodo e che dia delle altre prestazioni, ma che abbia anche delle caratteristiche di traspirabilità importanti appunto perché sono cicliste che passano particolarmente tanto tempo in sella. Un esempio sono appunto i fordi a reazione sul retro che vengono proposti sulla maglia e anche ai lati del calzoncino. Poi abbiamo appunto i lati in rete, quindi sia sulla maglia, sulle bande laterali e la rete viene riproposta anche con questa stampa particolare sulle bretelle del calzoncino. Altre caratteristiche che rendono appunto aerodinamica la maglia, il tessuto molto leggero ed elastico, il fondo con una banda elastica grippante che mantiene la maglia in posizione, stessa cosa anche per il calzoncino. Avete qualche capo particolare per le donne che vanno in bici nel tempo libero o che non fanno solo gare? Sicuramente, abbiamo una linea che Anna ha voluto dedicare a quelle che lei chiama le Cycling Moms, quindi tutte quelle donne che utilizzano la bici magari nel weekend con i propri figli. Sono capi molto più semplici, con dei tagli diversi ovviamente, quindi non particolarmente aerodinamici, con una lunghezza di gamba maggiore rispetto al capo più professionale. E poi abbiamo anche dei capi un po' crossover, quindi per esempio c'è una giacca invernale che è molto bella, te la posso mostrare, che è questa. È una giacca a mezza stagione, una giacca ovviamente dedicata alla bici, infatti si può vedere il taglio anche più lungo sul retro, però ovviamente ha un look non totalmente sportivo, quindi può essere utilizzata sia da coloro che vanno in bicicletta e quindi hanno bisogno di una giacca, perché ha delle caratteristiche tecniche assolutamente importanti, quindi come se fosse una giacca tecnica da bicicletta, però ha anche un look che può essere carino anche per utilizzarla per andare in ufficio, oppure esatto, non solo in bicicletta. Bene, grazie Paola, è stato un piacere, ad Eurobike, ciao! Ciao!